ciao vi presento rocchi e balboa sono due amici che sono cresciuti nello stesso pollaio in una cascina qua in lombardia che però purtroppo è stata abbandonata in quanto il proprietario originario è venuta a mancare e gli eredi hanno deciso di sbarazzarsi degli animali in primis dunque sono arrivati qua in questo rifugio sin da subito si sono contesi amichevolmente il pollaio dopodiché sono diventati subito dei boss i boss del quartiere del campo insomma e come vedete fanno amicizia con tutti ora però stanno cercando una nuova famiglia una nuova casa dove poter stare comunque insieme quindi sarebbe preferibile per loro trovare un'adozione di coppia se vi siete innamorati anche voi di rocchi e balboa aspetto una vostra chiamata sono sempre più diffusi nelle nostre case e spesso viene riservata loro una vita che non è più quella degli animali del pollaio tante volte vi abbiamo mandato in onda servizi dove le galline vivevano in casa con le persone che di loro si erano prese cura e questi due galletti che sono davvero belli hanno dei colori meravigliosi credo che possano diventare degli ottimi compagni anche per voi vi do subito il numero di telefono per adottare rocchi e balboa il 392 8773814 oppure come sempre scrivete a portami a casa chiocciola dalla parte degli animali punto e